Riprendiamo la nostra d'assegna internazionale quest'oggi tratteremo i numeri di gennaio e di febbraio della FSGT della rivista Sport & Pleinair chiaramente essendo i numeri dedicati ai mesi invernali la tematica principale è quella degli sport di montagna principalmente gli sport come sci, snowboard e tutti quelli relativi all'ambiente neve soprattutto il numero di gennaio sin dall'editoriale parte proprio con un interessante punto di vista sugli sport invernali sport che sono stati da sempre considerati elitari e più onerosi e che la FSGT come la Wisp ha sempre cercato di democratizzarli e renderli accessibili a tutti proprio per questo motivo la rivista e il suo reportage al centro della stessa è relativa alla messa in pratica di questa teorizzazione infatti la FSGT ha messo in pratica diverse attività come lo sci, lo snowboard, i corsi per i più piccoli ma anche delle ciaspolate come vediamo in questa immagine per garantire a tutti l'accessibilità a uno sport che come si diceva era stato da sempre considerato uno sport semplicemente per le classi più agiate l'importanza data agli sport invernali viene messa in luce anche a pagina 17 del numero di gennaio in cui vi è un aspetto più critico relativo a questa tematica infatti uno degli aspetti che si tratta di meno è l'impatto ambientale che hanno questi sport come per esempio lo sci e gli impianti che sono relativi a questo sport proprio sulla possibilità di praticarlo l'intervistatore cerca di capire qual è l'impatto ambientale che ha un tipo di sport del genere sulle nostre montagne e il fatto che è difficile intraprendere un nuovo modello economico e ambientale relativo a uno sport che sta vedendo sempre più persone avvicinarci sono gli sportivi che adesso devono prendere in mano la situazione per avvicinarsi a questo sport rispettando però delle regole ambientali e soprattutto cercando di non sfruttare al massimo queste montagne rischiando di romirare il panorama paesaggistico allo stesso tempo nel numero di febbraio viene ripresa la tematica degli sport invernali internazionalizzandola infatti abbiamo un articolo nella parte finale di questa rivista che si occupa dei giochi olimpici invernali svolti lo scorso mese in Corea del Sud che sono stati caratterizzati principalmente da una nuova diplomazia del ping pong e che vedrà la sua realizzazione nell'incontro tra Trump e il dittatore nordcoreano nei prossimi mesi in realtà la FGT pone la sua attenzione principalmente sull'importanza dei giochi olimpici invernali dei giochi che sono considerati troppo spesso di lusso in realtà ci occuperemo dei giochi olimpici nelle prossime rassegne stampe data l'importanza che soprattutto la stampa francofona dà a questa tematica visto che nel 2024 Parigi ospiterà i giochi olimpici nel numero di gennaio ancora una volta nell'editoriale si pone l'importanza su una tematica centrale in questi mesi ovvero quello dell'uguaglianza uomo-donna e delle appunto differenze e spesso del sessismo che si pone anche in ambito sportivo attraverso delle statistiche molto interessanti viene posta la questione delle differenze tra uomo e donna nell'attività sportiva infatti in alcune fasce d'età soprattutto le donne sono molto meno portate a intraprendere attività sportive a causa degli oneri principalmente casalinghi a cui devono adempiere altra importante e interessante tematica trattata nel numero di febbraio questa volta a Padre 17 è la informatizzazione della notizia sportiva infatti attraverso una collaborazione con la Biblioteca Nationale de France la BNF, ovvero la Biblioteca Nazionale di Francia la FSGT ha cominciato a informatizzare la propria rivista mettendola a disposizione di tutti proprio in questo modo hanno cercato di eliminare le barriere economiche e geografiche che si pongono a volte per l'acquisizione delle informazioni anche in questo abito ed è proprio quello che stiamo cercando noi di fare con questa rassegna stampa video in modo che tutti possano avere a disposizione le informazioni anche a livello internazionale nelle ultime pagine delle riviste della FSGT vi sono sempre dei consigli di lettura che propongono i giornalisti a proposito delle tematiche che sono state trattate nella rivista stessa quindi abbiamo deciso anche noi di provare a consigliare delle letture relativamente all'impegno WISP in queste tematiche consigliamo due diversi libri dello stesso autore ovvero Luciano Senatori, storico dirigente della WISP entrambe sono relative agli sport invernali il primo si chiama Compagni di Cordata associazionismo proletario, alpinisti sovversivi, sport popolare in Italia edito da EDS che racconta proprio l'inizio e come è venuta l'idea di democratizzare degli sport di montagna come abbiamo detto troppo spesso legati ad un ambiente elitario il secondo invece si chiama 70 anni di sci e non solo dai primi sci club popolari a neve WISP attività importantissima e questo mese si è svolta edito da Edizioni Polistampa racconta proprio l'esperienza WISP che ha portato a questa manifestazione sportiva a 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